De Caro Home e Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo del Balzo ad Avellino. Crisi idrica, continua l'emergenza ad Avellino e provincia, nonostante le seppur deboli piogge cadute nelle scorse ore, abbiamo dato una minima boccata d'ossigeno ad aggravare la già precaria situazione, come comunica l'alto calore e la rottura di una tubatura. A causa, infatti, la rottura e la condotta aduttrice in agro di Melito è sospesa l'erogazione idrica a servizio dei comuni di Grutta Minarda, Ariano Irpino, Melito Irpino, Savignano, Greci, Villanova del Battista e Monte Calvo Irpino. L'alto calore rende noto che i lavori sono in corso, i ripristi nella fornitura idrica è prevista nella mattinata di domani. Primi disagi sono stati registrati ad Ariano, dove sono rimasti a secco anche l'ospedale Sant'Ottone Frangipane ed il carcere. Dalle due strutture fanno sapere che grazie a delle vasche proprie non dovrebbero avere grossi problemi, sperando naturalmente nel repentino ripristino della conduttura. Intanto, il meteo non dà una mano per superare il momento di forte siccità. Dalle previsioni per la campagna di Irpina, infatti, si evince, come anche nei prossimi giorni. Le temperature supereranno i 30 gradi, mentre le piogge latiteranno.